Le capuranti procedono alla rimozione delle strutture interrate e nella bonifica? Si attacca al periodo prima, onorevole Crippa, cioè dopo numero 31 e nella bonifica, eccetera, eccetera. Perché è il primo periodo, onorevole Crippa. Va bene? Possiamo procedere serenamente? Molto bene. Allora, 22 bis 402 Braga, onorevole Villarosa. Nel comitato dei nove è nella, non c'era, c'era nella senza la E. Mi confermate? Perché il Presidente poco fa ha letto è nella, però mi sa che non è nel testo, è nel. Scusi, onorevole Villarosa, adesso però c'è stata una riformulazione che ha letto il relatore e non è che la sto leggendo io. L'ha letta due volte, è la riformulazione che ha fatto il relatore. Presidente, c'è stato un comitato dei nove stamattina, se no non mi permetterei di disturbare. Sì, ma il relatore ha letto una riformulazione che dice che al posto della parola nonché c'è la parola E, che al posto della parola inquinamento c'è la parola contaminazione e che al posto, evidentemente, della parola accertato c'è la parola accertata. Di che cosa dobbiamo discutere? Onorevole Villarosa, che dobbiamo fare? Colleghi, però ditemi che cosa devo fare, perché va bene? Bene, allora a questo punto, così come riformulato il 22 bis 402 Braga, parere favorevole del relatore del Governo e del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Grazie.